E' arrivata l'estate, con l'arrivo dell'estate si ripete il fenomeno degli incendi boschivi, un fenomeno che sta devastando il nostro territorio, ogni anno sono migliaia di incendi boschivi che distruggono migliaia di entari di patrimonio boschivo, è una situazione gravissima quella che viviamo nel nostro paese, a nostro parere, a parere dell'Italia dei Valori, legata anche alla retratezza degli strumenti messi in campo per la proiezione. Noi abbiamo una legge quadro sulla prevenzione degli incendi che affida alle regioni la possibilità di utilizzare il satellite per la prevenzione degli incendi. Oggi il satellite è perfettamente in grado di rilevare un focolaio di incendio anche di un metro quadro di due metri quadri e consente che l'allarme vengano lanciato con straordinario anticipo rispetto all'avvistamento umano. Dei ricercatori della Università di Potenza hanno accertato che se la regione Puglia fosse stata dotata di un sistema di rilevazione satellitare l'incendio devastante di peschici di due anni fa non si sarebbe sviluppato. Esiste questa previsione legislativa ma purtroppo le regioni non agiscono. Lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Noi siamo convinti che le devastazioni che ogni anno si producono in questo settore meritino un intervento dello Stato. Per questo l'Italia dei Valori ha presentato un disegno di legge che rende vincolante e prioritario per le regioni l'utilizzo dello strumento della rilevazione satellitare dei focolaio di incendio. Uno strumento legato alle nuove tecnologie che attraverso internet potrebbe consentire di rilevare un focolaio di incendio mezz'ora prima, un'ora prima dell'avvistamento umano. Io mi rendo conto che questo provvedimento probabilmente non farà piacere alle regioni che in manito delle Stati assumono migliaia e migliaia di persone per effettuare gli avvistamenti degli incendi boschini, ma io sono convinto che senza l'utilizzo delle nuove tecnologie il fenomeno degli incendi non potrà essere risolto. E non lo dico io, lo dicono le statistiche, perché nei paesi stranieri che hanno adottato questi strumenti il problema degli incendi boschini è stato sostanzialmente risolto. Il satellite è importante anche per la repressione dei reati, perché l'utilizzo del satellite ti consente di intervenire prima e ti consente evidentemente anche di avere più possibilità di prendere il restituto responsabile dell'incendio boschino. Noi siamo intervenuti in asprendo le pene per i responsabili di questi reati gravissimi, ma evidentemente il satellite potrebbe dare un contributo straordinario anche sul piano della prevenzione e della repressione delle responsabilità penali. Su questa proposta insisteremo per fare in modo che l'estate prossima speriamo che tutte le regioni siano attrezzate e dotate di queste nuove tecnologie e il fenomeno di incendi boschini possa costituire per il nostro patrimonio naturalistico soltanto corretto, per esempio, che c'è quella che non ci sia un'istituto che è molto grande e non ci sia un'istituto che sia un'istituto che si è un'istituto che solo ussi. Grazie a tutti.